Nuovo appuntamento con la lingua italiana, benvenuti a questo nuovo appuntamento con parole, parole, parole. Sapete già che ogni giorno scegliamo una parola diversa della lingua italiana da analizzare, da approfondire insieme a voi, ovviamente anche sotto vostro suggerimento. Ecco, oggi abbiamo deciso di iniziare a dedicarci ai gruppi di parole, gruppi di parole che sono accomunate tra loro da alcune caratteristiche, dal campo semantico, cioè dalla situazione all'interno del quale si utilizzano. Ecco, oggi abbiamo deciso di toccare quella che è la tematica della socialità, dell'inclusione sociale, dell'importanza della comunicazione. Ed è per questo che la parola che abbiamo scelto è proprio inclusione, un sostantivo femminile che deriva dal latino inclusio, cioè l'atto, il fatto di includere, cioè di inserire, di comprendere all'interno di una serie, di un tutto, un qualcosa o soprattutto una o più persone. L'inclusione sociale è questa l'accezione che vogliamo approfondire insieme a voi e l'azione volta a garantire l'inserimento di ciascun individuo all'interno della società in cui vive, indipendentemente però dalla presenza di elementi che ovviamente differenziano gli uni dagli altri e che possono apparire limitanti, ma in realtà sono nient'altro che una ricchezza. Tra i sinonimi ovviamente possiamo citare inserimento, accettazione, accoglienza, appartenenza. Tra i contrari invece eliminazione, allontanamento ed esclusione. Ecco, sapete già che noi ogni volta scegliamo delle frasi, una o più frasi, che racchiudono la parola che abbiamo deciso di approfondire in questa puntata insieme a voi. Questa frase che abbiamo scelto è particolarmente emblematica ed appartiene a Umberto Eco ed è una sua citazione che recita proprio così. La bellezza del cosmo è data non solo dall'unità nella varietà, ma anche dalla varietà nell'unità. Ecco, cosa voleva dire Umberto Eco con questa citazione? Voleva sottolineare l'importanza della diversità mentre siamo insieme. Ecco, è bello il cosmo non solo perché è unito, ma è bello perché è vario nella sua unione. Ecco, più persone diverse tra loro, messe insieme all'interno di una società, di un gruppo sociale, fanno la bellezza del cosmo, della società, della comunità stessa. E' questo quello che voleva sottolineare proprio Umberto Eco con la sua citazione. Quindi inclusione, includere le persone diverse tra loro, perché è questa la vera bellezza dell'umanità del mondo. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio per essere stati con noi. Ovviamente vi ricordo i nostri contatti, le nostre pagine social Facebook e Instagram di Sicilia24 e di Spazio Notizia. Potete scriverci lì le parole di cui siete più curiosi. Ovviamente nel corso delle puntate le approfondiremo insieme. Grazie ancora una volta per averci seguito. Parole, parole, parole. Torna domani. Parole, 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 a tutti. Grazie a tutti.